Pochi mesi ancora e a Santa Maria di Licodia si chiuderà l'Era Mastroianni, che ha caratterizzato un decennio di vita politica e amministrativa. Era infatti l'11 maggio 2012, quando l'attuale primo cittadino conseguì una vittoria sul filo di lana, su Gigi Tambone per appena 11 voti, e su altri 5 candidati, per poi bissare anche nel 2017. Concluso un doppio mandato consecutivo, l'attuale sindaco non è più candidabile. Inevitabilmente anche il post Mastroianni nasce dalla scomposizione del governo Mastroianni, che con l'effetto di un Big Bang ha scomposto la galassia politica locale. Ma vediamo chi aspira fra maggio e giugno, nel turno amministrativo non ancora fissato dalla regione, a risalire le scale del palazzo comunale da primo cittadino incoronato. A raccogliere il testimone dal sindaco uscente sembra destinato l'attuale assessore Gabriele Gurgone, fedelissimo di Mastroianni, già presidente del Consiglio Comunale nella passata consigliatura. Gurgone, in perfetta continuità, appartiene all'area PD Barbagalliana, anche se non tutto il PD licodiese sembrerebbe orientata a sostenere il compagno di partito. Dalla coalizione governativa sono recentemente fuoriusciti i consiglieri Mirella Rizzo, già assessore e vicesindaco, che appartiene all'area Falcone Forza Italia, Giovanni Butto, aria San Martino, attuale presidente del Consiglio Comunale e vicesindaco nel Mastroianni 1, e Pippo Nicolosi, già presidente del Consiglio Comunale, candidato sindaco nel 2012, che sul finire del 2021 hanno spostato in aula il peso a favore dell'opposizione. Da questo gruppo, attualmente affiatatissimo, dovrebbe uscire un solo candidato sindaco. I rumors di palazzo dicono che nella prossima seduta del Consiglio Comunale, probabilmente la prossima settimana, potrebbe esserci un annuncio importante. Terzo incomodo potrebbe essere Enrico Caruso, aria firarelliana, già assessore comunale con il compianto primo cittadino Salvo Rasà e figlio di Vincenzino Caruso, sindaco negli anni Ottanta. Le candidature potrebbero fermarsi a tre, ma i soliti ben informati dicono che stiano riflettendo sull'idea di correre per la poltrona di primo cittadino due ex presidenti del Consiglio Comunale, Antonio Rapisarda e Giovanni Trischitta. Sembra non interessata al momento alla candidatura l'aspirante sindaco alle amministrative del 2017 Benedetto Torrisi, Forza Italia, Aria Falcone, che sino a qualche tempo fa sembrava uno dei nomi certi. Insomma, dopo l'ubriacatura del 2012 con sette candidati, i blocchi di partenza dovrebbero essere non molto affollati, tre o quattro al massimo come cinque anni fa.